il manuale di rendicontazione. Questo manuale, in base a quanto è stato previsto dal regolamento di erogazione della fondazione, intende disciplinare le tipologie di oneri ammissibili nella presentazione dei progetti. Queste tipologie di spesa sono state raggruppate per macrovoce, adesso le scorreremo velocemente. Nel manuale vengono anche riportate le modalità di rendicontazione. Perché è importante averlo a disposizione mentre si iscrive il progetto, anche se poi il manuale vi servirà in modo specifico nel momento in cui dovrete andare a rendicontare? Per un motivo molto semplice, dovete costruire un budget tenendo conto di come poi dovrete rendicontarlo. Quindi dovete imputare dei costi che poi siete sicuri di poter rendicontare una volta che il progetto verrà approvato e verrà realizzato e quindi dovrete passare alla fase di rendicontazione economica. Il manuale ha una breve introduzione, vi presenta delle regole generali che adesso vedremo velocissimamente, vi dirà alcune cose sul cofinanziamento e poi tratterà in modo specifico alcune macrovoci cercando per ciascuna di spiegare che cosa è ammissibile e in che modo andrà a rendicontato. Questa parte la lasciamo alla vostra lettura analitica. La cosa importante per noi è soprattutto questa parte relativa alle regole generali. Allora, la cosa importante è che dovrà essere presentata una documentazione amministrativa contabile con copie dei giustificativi di spesa fiscalmente validi. Mi soffermo su questo aspetto perché è importante. Tutto ciò che voi mettete adesso nel budget dovrà poi essere rendicontabile con appunto dei giustificativi di spesa, quindi dei giustificativi relativi a quel tipo di spesa che voi avete identificato e che siano fiscalmente validi. Ad esempio fatture di acquisti o scontrini parlante, le fatture dei professionisti, le ricevute di pagamento per prestazioni occasionali, foglie di rimborso, spese relative giustificative, le buste paga dei dipendenti, le bollette ed altre cose appunto purché rispettino questi due requisiti che siano giustificativi di spesa e che siano fiscalmente validi per le norme in vigore per il fisco nell'anno 2015. Vi ricordiamo che per ciascun giustificativo di spesa dovrà anche essere allegata la relativa documentazione di quetanza. Perché ve lo diciamo adesso? Ovviamente perché questo comporterà per voi in una parte più o meno rilevante, dipenderà poi dai vostri progetti, per ciascun giustificativo di spesa vi ricordiamo che dovrà essere anche allegata la relativa documentazione di quetanza, ovvero le spese andranno effettivamente sostenute e quietanzate e a seguire riceverete l'erogazione da parte della fondazione dopo la presentazione e la rendicontazione. Quindi ricordatevi che avrete un certo tempo, un lasso di tempo tra la vostra anticipazione e poi l'erogazione da parte della fondazione, fatto salvo un eventuale anticipo iniziale che potete comunque richiedere. Dovranno eventualmente essere allegate copie di eventuali documenti specifici che però trovate nelle singole macrovoci. Altra documentazione poi vedrete e dovrete semplicemente tenerla presso di voi. Concretamente per ciascuna macrovoce trovate che cosa è ammissibile e qual è la documentazione specifica da riportare. Perché vi diamo il consiglio di dare un'occhiata adesso? Perché qua potreste accorgervi attraverso appunto l'analisi della documentazione richiesta che quel bene, quel servizio che pensate di imputare come costo in realtà non risponde a questi requisiti e quindi probabilmente non può essere imputato. O come nel caso dell'affitto dovete tener conto che deve essere messo in quota parte e quindi calcolare, dare un calcolo di imputazione percentuale di quel bene. Ovviamente come vedete ci sono tutte le varie voci e quindi potete vedere esattamente che cosa può essere imputato meno, idem per le risorse umane e per quanto riguarda le risorse volontarie vi viene spiegato in che modo è possibile imputare la valorizzazione. È stato preso un po' come ormai consolidato anche in altri bandi a livello nazionale una stima forfettaria di 20 euro all'ora come valorizzazione dell'impegno volontario indipendentemente dall'attività che i volontari svolgono. Ovviamente è possibile per prestazioni altamente qualificate imputare un valore uguale a quello che viene previsto o da albi professionali o da tabelle specifiche presenti nel vostro territorio. Ovviamente stiamo sempre parlando di valorizzazione. Vi viene anche detto come poi potrete rendicontare questo aspetto. Fate una particolare attenzione ai rimborsi spese, c'è sempre molta confusione su questo, ci sono alcuni elementi importanti con anche dei vincoli, dei parametri di cui dovete tenere conto e quindi vi consigliamo di leggerlo in base a questo andare a costruire il vostro piano dei costi rispetto ai rimborsi spese.